E' per questo, con questo spirito, che dà l'italiano annuncio la mia e la nostra candidatura al Consiglio regionale. Io penso che è arrivato il tempo di alzare la voce e di dire a Matteo Salvini e a tutti gli apparisti, anche del Sud, che è arrivato il tempo che invece noi questa terra ce la riprendiamo e la restituiamo all'Emanuela e le restituiamo alle Maria e le restituiamo ai cura della patrice del nostro paese, che sono tantissime. Qui è nata la nuova camorra organizzata, qui noi vogliamo far nascere la nuova cultura organizzata. Noi vogliamo proporre idee e non persone. Noi vogliamo generare speranza e non rancore. Io sto scendendo in campo, vi sto proponendo di fare parte di questa squadra, ma se perdessi, perderei io. Se vincessimo, vinceremo noi. Con questa emozione, con questo sentimento, che io da qui vorrei far partire un percorso. Perché da quello che ci hanno tolto i clan, adesso è arrivato il tempo di restituire a tutti. Noi l'abbiamo fatto alla sanità, adesso lo vogliamo fare in tutta la regione. Arrutiamo! Arrutiamo!